Senza Bavaglio, informazione libera, sempre. Il problema è che poi a pagare è la collettività tarantina che paga in termini di vita, anzi di morte e morti. Certo che il comportamento di questo governo e del suo ministro Gigino Di Maio, vice premier e ministro per lo sviluppo economico, è davvero incredibile questo comportamento. Di Maio e i Cinque Stelle hanno avuto il potere di dire e ritrattare vergognosamente e schifosamente tutto quanto avevano affermato in tema di ILVA, perché in campagna elettorale, ma già molto prima, si parlava di chiusura dell'ILVA senza sé e senza ma. E quindi hanno catalizzato i consensi, le attenzioni, soprattutto degli ambientalisti. Poi viene Di Maio a Taranto, in campagna elettorale, e sull'ILVA incomincia a tergiversare. Parla di chiusura delle fonti inquinanti, la parola chiusura dell'ILVA non la pronuncia più. Era questo come dire una spia, si era acceso un triste interruttore che poi avrebbe così dato vita ad una luce triste, ad una luce di morte. Infatti non si parla più di chiusura, i Cinque Stelle non hanno parlato più di chiusura, ma chiusura delle fonti inquinanti e poi chiusura programmata delle fonti inquinanti, Poi è riconversione, poi a un certo punto Di Maio si ferma e dice, alto là, prendo tempo fino a settembre. Ho 23.000 pagine di osservazioni da studiare, provenienti da associazioni, dalla proprietà, da Mittal, da chiunque sia, me le devo studiare con calma. Ma scusa Gigino Di Maio, ma tu avevi detto, il tuo partito aveva detto che si doveva chiudere l'ILVA, ora come si spiega questo studio delle 23.000 pagine? Come mi viene da ridere? Da quando l'ha pronunciato, quindi facendo una media, Gigino Di Maio la sera si mette a letto e si legge, si studia 300 pagine. Pensate un po' Di Maio che studia, Di Maio che non sa usare neanche i congiuntivi e che non studiava quando andava a scuola, figuriamoci se si mette a studiare ora. Ma al di là di queste battute, decide di non decidere Di Maio e rinvia tutto a settembre. Nel frattempo viene prorogata la gestione commissariale e si dice già una fandonia, una follia. Si dice ma questa proroga non costerà nulla. Ma scusate, chi paga? Paga lo Stato. E se non paga lo Stato, fatemi capire, pagheranno forse i lavoratori? Perché sicuramente vi saranno dei tagli dal punto di vista dei salari, una riduzione, ma soprattutto in termini di sicurezza. Non si realizzeranno quelle opere minime che sono necessarissime, visto che l'Ilva sta letteralmente cadendo a pezzi. E quindi la sicurezza sul posto di lavoro diventa un optional. Scusate, ma Di Maio aveva dichiarato, i Cinque Stelle avevano dichiarato che l'Ilva chiudeva. E scusatemi, allora che motivo c'è di convocare a Roma il sindaco, il governatore della regione, le associazioni ambientaliste, la proprietà, i sindacati? Se tu sei coerente e hai deciso e avevi deciso di chiudere, tu dovevi, una volta arrivato al governo, dovevi solamente ratificare questa chiusura. Invece no. Invece Di Maio sta rinnegando se stesso. Sta rinnegando quanto dichiarato da lui stesso e dal Movimento Cinque Stelle. Di Maio sta prendendo per il culo le associazioni tarantine che si sono presentate al Mise. Lui prendeva, loro parlavano e lui prendeva nota, ma non ha mai detto che l'Ilva si chiude. Anzi, anzi, col passare del tempo, col passare del tempo, dopo l'affermazione chiusura delle fonti inquinanti e riconversione, ora si è fermato Gigino Di Maio, ha detto che deve valutare fino a metà settembre, ma ha anche detto, facendo capire che si continuerà sulla scorta dei precedenti governi, che bisognerà valutare, considerare il rispetto del lavoro, dell'occupazione con il diritto dei tarantini di respirare. E lo stesso Ministro dell'Ambiente, Costa, Alto Pentastellato, ha detto sì, in effetti dovremo ripartire dal discorso precedente dell'AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale. In buona sostanza accadrà questo, che a metà settembre Di Maio dirà Ho valutato, l'Ilva non si chiude, faremo degli interventi in ambito ambientale molto marcati, molto severi, e vi ho preso per il culo, cari tarantini. Né più e nemmeno quello che diceva Calenda, quello che diceva Renzi, perché Renzi diceva contemperare lavoro e salute. Quello che appunto ci sta dicendo, ma l'ha già detto, l'ha già detto apertamente Di Maio, altrimenti se voleva chiudere non aveva bisogno di convocare le associazioni e nessuno. Avrebbe detto, signori, io ora sto al governo, chiudo e basta. Certo, poi abbiamo un sindaco, Melucci, che in un primo tempo, quando era d'amore e d'accordo con Emiliano, parlava di una Taranto stuprata, ora è il primo difensore dell'Ilva. E signori, cosa dobbiamo dire dei parlamentari 5 Stelle e Tarantini? Rossalba De Giorgi, Alessandra Ermellino, Giovanni Vianello, Giampaolo Cassese, deputati di questa Repubblica Movimento 5 Stelle, senatore Mario Turco, altro 5 Stelle. hanno perso la parola, non riescono più a parlare di Ilva, non sanno più cosa dire. Perché il Movimento 5 Stelle a livello nazionale ha tappato la bocca, ha detto sull'Ilva voi non dovete fiatare e loro non sanno più cosa dire. A Taranto vi siete presi i voti dei Tarantini, parlando, promettendo la chiusura dell'Ilva e ora voi state rinnegando queste promesse, ve le state rimangiando, vergogna, vergognatevi. Questo è Taranto e i morti di tumore aumentano e le neoplasie per quanto riguarda i bambini aumentano e la sicurezza sul lavoro è un optional perché per 30 e 31 l'altro giorno non si è verificato un incidente mortale. Che se ne frega di Maio di Taranto? Questa è la realtà, signori cari. Ho voluto tracciare un excursus. Oltre ai danni ambientali, questa è l'Ilva. Sono 30 in milioni di euro le risorse che l'Ilva brucia ogni mese. E ancora arriverà Arcelor Mittal, il nuovo proprietario, il gruppo franco-indiano. Sappiamo i precedenti, mi pare in Bosnia e Herzegovina, da parte di Mittal, peggio di Riva, tutela ambientale zero. Viene questo qui e dice sì ma sicuramente io non potrò ovviamente assumere appunto i circa 14.000 ma 10.000 ne prenderò, altri 4.000 rimarranno a terra. Anzi dice perché vedete il bicchiere mezzo vuoto? Vedetelo mezzo pieno, ne sto prendendo 10.000. Non dice che ne sta buttando a mare 4.000 ma ne sta prendendo 10.000. Vedete un po', in casa nostra noi dobbiamo essere stuprati da questo straniero, da questo gruppo franco-indiano che deve permettersi di dire queste cose. Con un governo silente, con dei parlamentari silenti e con un Emiliano che ancora non ho capito se è carne o se è pesce. Lui si è servito della questione Ilva per farsi propaganda, ha cavalcato la tigre di Taranto, l'ambientalismo tarantino per farsi bello ma poi non ha il coraggio di stroncare l'Ilva. Questa è Taranto. Ma la metà settembre, quando Di Maio dovrà decidere, sta arrivando e lì si dirà che l'Ilva continua a produrre. Ma già l'ha detto, quando ha incontrato i sindacati, l'ha detto praticamente. Ha parlato di queste due esigenze. Ha detto che ha studiato le carte e quindi si avvia la decisione di settembre. Poi voglio vedere tutte le associazioni ambientaliste che sembravano dei fan, degli hooligans, degli ultras, dei 5 Stelle. Voglio vedere ora dove devono andarsi a nascondere e voglio vedere, visto che per loro i 5 Stelle erano Cristo in terra, voglio vedere ora se avranno il coraggio di dire che il Movimento 5 Stelle è il più grande blef politico degli ultimi 50 anni. A Taranto, purtroppo, si continua a morire come è più di prima. Capito, parlamentari tarantini? Cosa fate? Finora 13 mila Euro al mese, guadagnati lecitamente per carità e a fronte di questo il silenzio. 13 mila Euro al mese per il silenzio. Complimenti. Avete trovato l'America. La cuccagna. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.